E' stata rinviata a giudizio con l'accusa di omicidio Isabella Internò, l'ex fidanzata di Donato Denis Bergamini, il carciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla Statale 106 nei pressi del castello di Roseto Capospunico. Il gruppo di Castrovillari, Fabio Lerio Festa, ha dunque accolto la richiesta del pubblico ministero Luca Primicerio. La prima udienza del processo è stata fissata per il 25 ottobre prossimo. Isabella Internò è accusata di concorso nell'omicidio di Denis Bergamini, aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili. In aula non c'erano presenti nella Internò né la sorella del calciatore del Cosenza Donata. A quasi 32 anni da quella tragedia arriva il passo importante che la famiglia ha teso a lungo. Isabella, all'epoca 19enne, avrebbe voluto punire l'ex fidanzato per aver interrotto il loro rapporto. Dopo averlo narcotizzato e soffocato, con l'aiuto di persone ancora rimaste senza un nome, fu realizzata la messa in scena del suicidio. Suicidio a cui, infatti, non hanno mai creduto né la famiglia di Denis Bergamini né i tifosi e le persone che la conoscevano meglio. Una storia costellata di bugie, dei pistaggi, sparizione di reperti e capovolgimenti di fronte nelle aule di giustizia. Solo negli ultimi quattro anni, con la riapertura del caso e la riassumazione del corpo del calciatore, un procuratore ha finalmente affermato che quello di Denis non fu un suicidio. Del resto, la superperizia parlava chiaro, morto per soffocamento. Dalla sera del ritrovamento del corpo, la famiglia Bergamini non ha mai smesso di battersi per conoscere la verità. Oggi, dopo la morte del padre Domizio, a seguire il processo ci sarà Donata, che ha dedicato la vita al ricordo del fratello e alla sua difesa da falsità e bugie diffamanti. Due giorni fa sarebbe stato il compleanno di Denis, 59 anni.